Nel 2023 in Italia 18 città su 98 hanno superato i limiti di legge giornalieri di PM10. È quanto emerge dai dati del rapporto malaria di legambiente sull'inquinamento atmosferico. E sebbene le città abruzzesi rientrino nei parametri di legge, con l'Aquila come miglior capoluogo di provincia e Pescara come peggiore, i dati restano comunque allarmanti per chi ha rischio e la salute dei cittadini, come denuncia legambiente che in conferenza stampa con la Presidente regionale Silvia Tauro avanza ipotesi risolutive. Quello che emerge è che tutto sommato le nostre città sono una situazione di stallo, con Pescara che continua ad essere quindi il punto da attenzionare. Tutti i nostri capoluoghi comunque rientrano nei limiti di legge per quanto riguarda gli inquinanti. È diversa la situazione se si guarda i nuovi limiti che saranno introdotti da qui al 2030 e poi 2035, secondo i limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quali sono le possibili soluzioni? Fondamentalmente dobbiamo continuare a lavorare su tre settori. La mobilità sostenibile, efficientamento energetico degli edifici, sia pubblici che privati. Considerare il forte impatto che l'agricoltura oggi ha sull'inquinamento dal punto di vista delle emissioni, laddove proprio questo settore rischia di essere vittima e carnefice di se stesso e deve assumersi le responsabilità quindi di implementare un tipo di produzione diversa. Cittadini e denti devono entrare in collaborazione, tenendo conto che la finalità ultima quindi della risoluzione di questo problema è la salute dei cittadini. 46.800 morti l'anno a causa dell'inquinamento, 11.300 se consideriamo l'inquinamento da biossido di azoto. Questi sono numeri che devono farci riflettere, non quindi per ristaurare situazioni di panico, ma per prendere consapevolezza di quanto dobbiamo lavorare per salvaguardare quindi noi stessi e il nostro ecosistema. A livello regionale quali sono i dati che riguardano le città? I dati ci dicono che oggi tutti i nostri capoluoghi rientrano dentro i limiti di legge, diverso il percorso invece se si guarda al 2030 e ai nuovi limiti che saranno inseriti. Pescara è sicuramente la città che deve lavorare di più, bene l'Aquila che per due parametri su tre già rientra in quelli che addirittura sono i limiti molto più stringenti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie a tutti.